Gli insegnamenti di Ramana Maharshi Felicità Tutti desiderano essere felici in ogni momento, senza provare tristezza. Inoltre, le persone amano se stesse al meglio. L'amore è la causa della felicità. La felicità è dentro di noi. La felicità più grande che si sperimenta è quando dormiamo, quando il funzionamento della mente non è coinvolto. Quindi, una chiara comprensione di ciò che si è aiuterebbe a gettare le basi per la felicità. Coscienza La nostra coscienza è l'unica realtà che esiste. Quando svegliamo la nostra coscienza, si chiama risveglio. Quando dormiamo senza coscienza, si chiama sonno. Quando sogniamo senza coscienza, si chiama REM. La coscienza è qualcosa che è sulla scena in ogni momento, mentre tutte le attività riprendono e si fermano. Mente Quando sono i nostri cervelli e sensi nell'applicazione, vengono riconosciute forme senza valore. Quando è nel cuore, le forme scompaiono. Quando non c'è ego o nessun io, c'è il sé, che è la forma più elevata di coscienza. Richiesta di informazioni su se stessi. Quando mettiamo in discussione la nostra esistenza e ci chiediamo Chi sono io? Tutti gli altri pensieri muoiono. Quando non ci sono pensieri che competono tra loro, ti aiuterebbe a capire meglio le ragioni di questi pensieri. Allora, la domanda è A chi stanno sorgendo questi pensieri? E la risposta è Se stessi. Questi pensieri verrebbero sommersi, praticando sempre di più e interrogandoci sempre di più. RESA Ci sono fondamentalmente due modi di arrendersi. Uno è fondere se stessi con la fonte. L'altro è riporre tutta la fiducia in Dio e gettarsi completamente nella sua devozione. Dio solo è la fonte di sicurezza e protezione in questo mondo. Quando l'amore per Dio si sviluppa, l'ego svanisce. A rendersi completamente porterebbe alla liberazione. Libero arbitrio e destino Tutto il libero arbitrio e il destino esisteranno sempre. Il risultato delle nostre azioni passate è il destino e riguarda il corpo. Il libero arbitrio e il destino durano finché c'è il corpo. Ma la conoscenza di sé è al di là del nostro corpo e della nostra ignoranza. Qualunque cosa ci accada è il risultato delle nostre azioni passate. Ma quando conquistiamo noi stessi ci liberiamo dal suo ego e ci fondiamo in Dio. Strima Arshi sosteneva che un guru fosse necessario nel viaggio verso la scoperta di sé e di Dio. Il guru non deve essere eternamente presente. Quando lasciò questo piano disse ai suoi seguaci che non se ne sarebbe andato perché non era il suo corpo. È sempre presente. Ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita. Metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili. Ci vediamo al prossimo video. Ciao